All'agrigento città, su iniziativa di Italgas, è in corso la sostituzione degli attuali contatori del gas Italgas installati nelle utenze. Ad occuparsi della sostituzione con altri contatori è la Rimiflu. Il lavoro di sostituzione non ha alcun costo per l'utente privato e l'opera è compiuta solo da tecnici abilitati. Ascoltiamo per altri dettagli Alfonso Emanuele della Rimiflu. Bisogna sostituire i contatori attualmente installati da Italgas con altri contatori, come stabilito dall'autority del settore. Si tratta dei contatori che dovrà installare la Rimiflu. Alfonso Emanuele. Sì, salve, salve. Io quello che voglio dirvi è solo una cosa. Attualmente sul territorio di Agrigento città ci stanno due tecnici che stanno facendo il cambio dei contatori del gas. Io vi posso dire che tra l'altro i contatori, quelli che avete dentro, al momento vanno sostituiti tutti, perché l'autority ha stabilito che sono contatori che praticamente si devono togliere da ogni tipo di abitazione. Ora vi spiego il funzionamento che poi ci sarà del nuovo contatore. Magari se vuole vedere... Pertanto a casa dove vi è un contatore Italgas si presenta un tecnico della Rimiflu e installa i contatori che adesso sono in nemostra. Sì, allora questi sono i nuovi contatori che noi praticamente installiamo in casa da ogni cliente. Ci sono questo tipo di contatore e anche quest'altro tipo di contatore. Quello che io chiedo alle persone, perché sono qui apposta, con tutte le cose che succedono dentro le case, è anche giusto dire, tra l'altro, che noi siamo sul territorio e vi dirò anche i nominativi dei due tecnici, perché, ripeto, con tutte le cose purtroppo che succedono è giusto dire queste cose. I tecnici chi sono? Abilitati per la città di Agrigento e per la provincia? Allora, per la città di Agrigento sono Angelo Morrealese e Salvatore Madonia. Sono loro due, sempre con tesserino, che entrano a casa di ogni praticamente cliente. Così voi state tranquilli che sul territorio ci saranno solo questi due tecnici. Solo per la città o anche per la provincia? Per il momento abbiamo iniziato con Agrigento Città. Poi, tra l'altro, pian piano, perché la Rimiflu, grazie all'ingegner Galletto e l'ingegner Fabio Guercio, che è lui che si occupa di tutto il cantiere, si sta ingrandendo, pian piano parte dall'Alta Italia e sta arrivando qui al sud. Quindi ci aspettiamo anche prossimi cantieri in provincia di Agrigento. In conclusione, è un'operazione che ha un costo per l'utente privato? Sono qui? Assolutamente no. Io vi chiedo agli utenti che nessuno dei nostri operatori, state tranquilli, vi chiederà un centesimo, né loro quando vanno a casa, né anche in bolletta. Questa è un'operazione che Italgas curerà proprio con i minimi dettagli. Non vi chiederà nessuno un centesimo. Questo ve lo garantisco io. Grazie.